Io sono quello di Shri Nisargadatta Maraj Ventunesima conversazione Visitatore Ci consigliano di venerare la realtà rappresentata da Dio o da un uomo perfetto e ci viene anche detto di non tentare di adorare l'assoluto perché sarebbe troppo difficile per una coscienza che si basa sull'intelletto Maraj La verità è semplice e aperta a tutti perché la complichi La verità è colma d'amore e degna di essere amata Comprende tutto Accetta tutto Purifica tutto È la falsità a essere difficoltosa e fonte di problemi Sempre in cerca di conferme e rassicurazioni Teme l'indagine e la evita Si identifica con qualsiasi sostegno per quanto debole e momentaneo possa essere Ogni cosa che ottiene la perde e ne chiede un'altra Quindi non prestare fiducia alle percezioni coscienti Niente è come lo vedi, senti o pensi Persino il peccato e la virtù non sono ciò che sembrano Di solito il bene e il male sono convenzioni e usanze accolte o respinte a seconda di come vengono adoperate le parole Visitatore Non ci sono desideri buoni e cattivi Nobili e spreggevoli? Maraj I desideri sono tutti cattivi Ma alcuni sono peggiori di altri Qualunque desiderio tu insegua ti darà sempre problemi Visitatore Anche il desiderio di liberarsi dai desideri? Maraj Perché avere desideri? Desiderare uno stato libero dai desideri Non ti renderà libero Niente può liberarti Perché sei libero Vediti con chiarezza priva di desideri Ecco tutto Visitatore Ci vuole tempo per conoscere se stessi Maraj Di che aiuto può esserti il tempo? Che è una successione di momenti? Ogni momento appare dal nulla e scompare nel nulla per non riapparire mai più Come puoi costruire qualcosa su una base così transitoria? Visitatore Ma che cos'è permanente? Maraj Per trovare la permanenza rivolgiti a te stesso Scava in profondità dentro di te e scopri cosa c'è di reale Visitatore Come posso cercare me stesso? Maraj Qualunque cosa accada accade a te Quando fai una cosa colui che agisce è dentro di te Trova il soggetto di tutto ciò che sei come persona Visitatore Cos'altro potrei essere? Maraj Scoprilo Anche se ti dico che sei il testimone l'osservatore silenzioso non significerà niente per te a meno che tu non scopra la via di accesso al tuo vero essere Visitatore Allora ti chiedo come trovo questa via di accesso? Maraj Accantona tutte le domande eccetto una Chi sono io? Dopotutto l'unica certezza che hai è quella che tu sei L'io sono è in dubbio mentre l'io sono questo non lo è Sforzati di scoprire chi sei in realtà Visitatore Non faccio altro da 60 anni Maraj Che c'è di male a sforzarsi? Perché vuoi dei risultati? Lo sforzo in sé è la tua vera natura Visitatore Sforzarsi è doloroso Maraj Sei tu a renderlo tale cercando dei risultati Sforzati senza cercare lotta senza avidità Visitatore Perché Dio mi ha fatto così? Maraj Di quale Dio stai parlando? Che cos'è Dio? Non è forse la stessa luce tramite la quale fai questa domanda? L'io sono stesso è Dio La ricerca stessa è Dio Tramite la ricerca scopri che non sei il corpo né la mente e che l'amore per il sé che è in te è amore per il sé che è in tutti I due sono uno La coscienza che è in te e quella che è in me apparentemente sono due ma in realtà sono una cosa sola e cercano l'unità Questo è l'amore Visitatore E come lo trovo un amore simile? Maraj Cosa ami adesso? L'io sono Dedicatici con tutto il cuore e la mente e non pensare ad altro Quando è naturale e senza sforzo è lo stato più elevato in cui l'amore stesso è l'amante e l'amato Visitatore Tutti vogliono vivere esistere non è amore di sé Maraj Tutti i desideri nascono dal sé Viatta La questione è tutta nello scegliere il desiderio giusto Visitatore Il giusto e lo sbagliato variano a seconda delle abitudini e delle usanze La scala dei valori è diversa in ogni società Maraj Rifiuta tutte le convenzioni tradizionali Lasciale agli ipocriti È giusto solo ciò che ti libera dal desiderio dalla paura e dalle idee errate Finché ti preoccuperai di peccati e virtù non avrai pace Visitatore Ammetto che il peccato e la virtù sono norme sociali ma potrebbero anche esserci peccati e virtù spirituali e per spirituali intendo assoluti Esistono virtù e peccati assoluti? Maraj Peccati e virtù si riferiscono esclusivamente alla persona che significherebbero se non ci fosse una persona virtuosa o peccatrice Sul piano dell'assoluto non esistono persone L'oceano di pura consapevolezza non è né virtuoso né peccaminoso Peccato e virtù sono invariabilmente relativi a qualcuno Visitatore Non posso sbarazzarmi di queste inutili nozioni? Maraj No finché penserai di essere una persona Visitatore Quale segnale mi mostrerà che sono andato al di là dei peccati e delle virtù? Maraj La libertà da ogni desiderio e paura dall'idea stessa di essere una persona Nutrire idee come sono un peccatore o non sono un peccatore è peccato Identificarsi con il particolare è il peccato più grave L'impersonale è reale Il personale appare e scompare Io sono è l'essere impersonale Io sono questo è la persona La persona è relativa Il puro essere è fondamentale Visitatore Di sicuro il puro essere è cosciente e può discriminare Quindi come può essere al di là di peccato e virtù? Dici semplicemente questo è dotato di intelligenza o no? Maraj Tu poni tutte queste domande perché credi di essere una persona Vai oltre il personale e guarda Visitatore Cosa intendi quando mi dici di smettere di essere una persona? Maraj Non ti chiedo di smettere di essere non potresti Ti chiedo semplicemente di smettere di immaginare che sei nato che hai dei genitori che sei un corpo che morirai e via dicendo almeno provaci fai il primo passo non è difficile come credi Visitatore Immaginarsi come persona è il peccato dell'impersonale Maraj Ancora una volta un punto di vista personale perché insisti a voler contaminare l'impersonale con le tue idee di peccato e virtù? Non c'entrano niente L'impersonale non può essere descritto in termini di bene e male perché è l'essere la saggezza l'amore in senso assoluto che c'entra il peccato tenendo conto che la virtù non è altro che il suo opposto Visitatore Parliamo di virtù divina Maraj La vera virtù è natura divina Svarupa La tua virtù è essere ciò che realmente sei ma l'opposto del peccato che tu chiami virtù è soltanto una forma di obbedienza nata dalla paura Visitatore Allora perché cercare di essere buoni Maraj Perché ti tieni in movimento Vai sempre più avanti finché non trovi Dio Allora è Dio a prenderti dentro di sé e a renderti come Lui Visitatore La stessa azione può essere considerata naturale o peccaminosa a seconda dei punti di vista Cosa la rende un peccato? Maraj Tutto ciò che è contrario a una migliore conoscenza è peccato Visitatore Ma la coscienza dipende dalla memoria Maraj Ricordarti chi sei è virtù Dimenticartene è peccato Tutto si concentra nel legame mentale o psicologico tra spirito e materia Un legame che possiamo chiamare psiche Antakarana Quando la psiche è grezza poco sviluppata e primitiva è soggetta a grossolane illusioni Man mano che cresce in ampiezza e sensibilità diventa un perfetto punto di unione tra pura materia e puro spirito dando significato alla materia ed espressione allo spirito C'è il mondo materiale Mahadakaja e quello spirituale Paramakaja Tra i due si trova la mente universale Cidakaja che è anche il cuore universale Premakaja È l'amore saggio che fa dei due un'unità Visitatore Ci sono persone stupide e altre intelligenti La differenza è nella loro psiche Quelle mature hanno una maggiore esperienza alle spalle Come un bambino cresce perché mangia beve dorme e gioca Così la psiche umana viene modellata da tutto ciò che uno pensa percepisce e fa diventando poi adatta a far da ponte tra lo spirito e il corpo Al pari del ponte che permette il collegamento tra le due sponde la psiche riunisce la sorgente e la sua espressione Maraj Chiamalo amore Il ponte è l'amore Visitatore In fin dei conti tutto è esperienza Qualsiasi cosa pensiamo sentiamo o facciamo Dietro l'esperienza c'è colui che la fa Quindi la nostra conoscenza consiste di due elementi L'esperienza e chi la fa Ma in realtà i due sono uno Colui che esperisce è l'esperienza stessa anche se pensa che essa sia qualcosa di esterno Allo stesso modo spirito e corpo sono un tutt'uno ed è solo in apparenza che sembrano due Maraj Lo spirito non ha un secondo Visitatore Allora chi appare il secondo? Mi sembra che la dualità sia un'illusione indotta dall'imperfezione della psiche Quando la psiche è perfetta non si vede dualità Maraj L'hai detto? Visitatore Sono però costretto a ripetere la domanda che è semplice Chi distingue tra peccato e virtù? Maraj Chi ha un corpo pecca con il corpo chi ha una mente pecca con la mente Visitatore Sicuramente il solo possedere un corpo e una mente non spinge al peccato Alla base deve esserci un terzo fattore Continuo a tornare sulla questione del peccato e della virtù perché i giovani di oggi insistono a dire che il peccato non esiste che non bisogna fare troppo i difficili e che si dovrebbe dare subito ascolto ai desideri del momento Non accetteranno nessuna tradizione o autorità e potranno essere influenzati solo da un pensiero solido e onesto Se si astengono da certe azioni e per paura della polizia non per loro convinzione Non c'è dubbio che ci sia qualcosa di valido in ciò che dicono dato che i valori cambiano a seconda del luogo e del periodo storico Per esempio uccidere in guerra è oggi una grande virtù ma nel prossimo secolo potrebbe essere considerato un crimine orribile Maraj L'uomo che si muove con la terra vedrà necessariamente i giorni e le notti Chi rimane con il sole non conoscerà il buio Il mio mondo non è il vostro Per come la vedo io state tutti recitando su un palcoscenico I vostri andirivieni non hanno niente di reale e così i vostri problemi Visitatore Lo sto facendo Sono entrato nel vostro stato di sogno per dirvi Smettete di far del male a voi stessi e agli altri Smettete di soffrire Svegliatevi Visitatore Allora perché non ci svegliamo Maraj Lo farete e non verrò smentito Forse ci vorrà del tempo ma quando inizierete a mettere in dubbio il vostro sogno il risveglio non sarà lontano Ventiduesima conversazione La vita è amore e l'amore è vita Visitatore La pratica dello yoga è sempre cosciente oppure può essere inconscia al di sotto della soglia di consapevolezza Maraj Nel caso di un principiante la pratica è spesso deliberata e richiede una grande determinazione ma quelli che praticano con sincerità per molti anni sono continuamente dediti a realizzare se stessi che ne siano coscienti o no Il sadhana non cosciente è il più efficace perché è stabile e spontaneo Visitatore Che diresti di un uomo che per un certo periodo è stato sincero praticante di yoga e poi si è scoraggiato e ha abbandonato ogni tentativo Maraj Ciò che un uomo sembra fare o non fare trae spesso in inganno La sua apparente letargia potrebbe essere un semplice recupero di forze Le cause del comportamento sono molto sottili Non si dovrebbe condannare o elogiare con tanta facilità Ricorda che lo yoga è il lavoro del sé interiore avyakta sull'io o sé esterno viakti Tutto ciò che avviene esternamente è semplicemente una risposta all'interiorità Visitatore Se in ultima analisi è il sé interiore a essere responsabile dello sviluppo spirituale di una persona perché viene incoraggiato ed esortato l'io Maraj L'io può essere d'aiuto se mantiene la calma e si libera da desideri e paure Come avrai notato tutti i consigli dati all'io sono in forma negativa Non fare Trattieniti Privati Rinuncia Sacrificati Abbandonati Vedi il falso come falso Persino la minima descrizione della realtà viene data per negazione Né questo né questo Netti Netti Il positivo appartiene al sé interiore come l'assoluto alla realtà Visitatore Nell'esperienza vissuta come possiamo distinguere tra l'io o sé esterno e il sé interiore Maraj Il sé è fonte di ispirazione L'io è manovrato dalla memoria La fonte è irrintracciabile Invece i ricordi iniziano da qualche parte Quindi l'io è sempre definito mentre il sé non può essere descritto a parole L'errore dei ricercatori consiste nell'immaginare che il sé sia afferrabile e nel dimenticare che ogni percezione è transitoria e quindi irreale Solamente ciò che rende possibile la percezione chiamalo vita Brahman o in un altro modo è reale Visitatore La vita deve avere un corpo per potersi esprimere Maraj Il corpo cerca di vivere Non è la vita ad avere bisogno del corpo ma il contrario Visitatore La vita agisce deliberatamente Maraj E l'amore agisce deliberatamente? Sì e no La vita è amore e l'amore è vita Cosa tiene assieme il corpo se non l'amore? Cos'è il desiderio se non amore per se stessi? Cos'è la paura se non il bisogno di proteggersi? E che cos'è la conoscenza se non amore della verità? I mezzi e le forme possono essere sbagliati ma è il motivo che c'è dietro è sempre l'amore amore dell'io e del mio L'io e il mio possono essere minuscoli o esplodere e abbracciare l'universo ma l'amore rimane Visitatore La ripetizione del nome di Dio è una pratica molto comune in India ma porta dei vantaggi Maraj Quando conosci il nome di una cosa o di una persona ti è più facile trovarla chiamando Dio per nome fa sì che venga da te Visitatore e in quale forma viene? Maraj secondo le tue aspettative se ti capita di essere sfortunato e un santuomo ti offre un mantra in segno di buon augurio tu lo ripeti con fede e devozione la sfortuna è costretta a cambiare direzione una fede salda è più forte del destino il destino è il risultato di cause in gran parte accidentali e quindi è una rete a maglie larghe se hai fiducia e speri per il meglio lo supererai facilmente Visitatore cosa succede esattamente quando si recita un mantra? Maraj il suono del mantra crea la forma in cui si incarnerà il sé il sé può incarnarsi in qualsiasi forma e agire per suo tramite dopotutto il sé si esprime nell'azione e il mantra è essenzialmente energia in azione agisce su di te e su ciò che ti circonda Visitatore il mantra può essere soltanto quello tradizionale? Maraj da tempi immemorabili si è creato un legame tra certe parole e le energie corrispondenti che è stato rafforzato da innumerevoli ripetizioni è come una strada su cui ti incammini è una via facile che richiede soltanto fede credi nella via che percorri e ti porterà a destinazione Visitatore in Europa non c'è la tradizione del mantra tranne che in qualche ordine contemplativo può essere utile a un giovane occidentale di oggi Maraj no a meno che non ne sia fortemente attratto per lui il metodo giusto è quello di attenersi al pensiero di essere egli stesso la base di ogni conoscenza l'immutabile e perenne consapevolezza di tutto ciò che accade ai sensi e alla mente se lo terrà sempre presente in modo vigile e consapevole riuscirà inevitabilmente a spezzare i legami della non consapevolezza e a rimergere alla vita pura alla luce e all'amore l'idea io sono soltanto il testimone purificherà il corpo e la mente facendo aprire l'occhio della saggezza a quel punto l'essere umano oltrepassa l'illusione e libera il cuore da tutti i desideri come il ghiaccio si tramuta in acqua e l'acqua in vapore che si perde nell'aria scomparendo nello spazio così il corpo si risolve prima nella pura consapevolezza ci da casa e poi nel puro essere paramakasa che è al di là dell'esistenza e della non esistenza visitatore il realizzato mangia beve e dorme cosa lo spinge a farlo marage lo stesso potere che muove l'universo muove anche lui visitatore se tutti sono mossi dallo stesso potere che differenza c'è marage solamente questa il realizzato conosce ciò che gli altri hanno a malapena ascoltato ma mai provato possono sembrare intellettualmente convinti ma quando entrano in azione lasciano trasparire la loro schiavitù invece il realizzato è sempre come deve essere visitatore tutti dicono io sono anche i realizzati dov'è la differenza? marage la differenza sta nel significato attribuito alle parole io sono nel caso del realizzato l'esperienza io sono il mondo il mondo è mio è estremamente valida perché gli pensa sente e agisce in maniera integra e in comunione con tutto ciò che vive può anche non conoscere la teoria e la pratica della realizzazione di sé ed essere nato e cresciuto libero da nozioni religiose e metafisiche ma nella sua comprensione e compassione non c'è la minima incrinatura visitatore potrei incontrare un mendicante nudo e affamato e chiedergli chi sei? lui potrebbe rispondermi sono il sé supremo se gli dicessi bene visto che sei il supremo cambia il tuo stato attuale cosa farebbe? marage ti chiederebbe quale stato cosa c'è da cambiare che c'è che non va in me visitatore perché dovrebbe rispondere così? marage perché non è più legato alle apparenze non si identifica con il nome e la forma usa la memoria ma non è usato visitatore ogni conoscenza non è basata sulla memoria marage la conoscenza è inferiore sì ma quella superiore la conoscenza della realtà è intrinseca alla vera natura dell'essere umano visitatore e se dicessi che io non sono né ciò di cui sono cosciente né la coscienza stessa? marage finché sei un ricercatore fai meglio ad attenerti all'idea di essere pura coscienza libera da ogni contenuto andare al di là della coscienza è lo stato supremo visitatore il desiderio di realizzazione ha origine entro o oltre la coscienza? marage nella coscienza ovviamente ogni desiderio nasce dalla memoria e rientra nell'ambito della coscienza ciò che sta al di là è privo di qualsiasi sforzo il desiderio stesso di andare oltre la coscienza è sempre nella coscienza visitatore nella coscienza c'è traccia o impronta di questo andare oltre? marage no non può esserci traccia visitatore allora che relazione c'è tra i due? come si può passare da uno stato all'altro se non hanno niente in comune? il collegamento tra i due non è forse la pura consapevolezza? marage anche la pura consapevolezza è un aspetto della coscienza visitatore allora cosa c'è oltre? il vuoto? marage anche il vuoto si riferisce soltanto alla coscienza pienezza e vacuità sono termini relativi solo il reale è veramente oltre non oltre in relazione alla coscienza ma oltre ogni genere di relatività la difficoltà nasce dalla parola stato il reale non è uno stato di qualcos'altro della mente della coscienza o della psiche né è qualcosa che ha un inizio e una fine un essere o un non essere tutti gli opposti sono contenuti nel reale che però non prende parte al gioco degli opposti non devi considerarlo la fine di una transizione è se stesso dal momento in cui non c'è più coscienza a quel punto frasi come io sono un uomo o io sono Dio perdono ogni significato il reale può essere udito e visto solo nel silenzio e nell'oscurità ventitresima conversazione la discriminazione conduce al distacco Maraj siete tutti zuppi perché piove forte nel mio mondo fa sempre bel tempo non c'è giorno o notte caldo o freddo non sono assillato da preoccupazioni e rimpianti la mia mente è sgombra di pensieri perché non è schiava dei desideri visitatore ci sono due mondi Maraj il tuo mondo è transitorio e mutevole il mio è perfetto immutabile puoi dirmi ciò che vuoi del tuo mondo ascolterò con attenzione persino con interesse ma non dimenticherò neppure per un momento che il tuo mondo non esiste e che tu stai sognando visitatore cosa differenzia il tuo mondo dal mio Maraj il mio mondo non ha caratteristiche con le quali identificarlo non posso dire niente su di esso io sono il mio mondo il mio mondo è me stesso è completo perfetto ogni impressione è cancellata e ogni esperienza respinta non ho bisogno di niente neppure di me stesso perché non posso perdere me stesso visitatore non hai neanche bisogno di Dio Maraj tutte queste idee e distinzioni esistono solamente nel tuo mondo nel mio non c'è niente del genere il mio mondo è unico e molto semplice visitatore e non succede niente Maraj qualunque cosa accada nel tuo mondo è solo lì che ha validità e suscita reazioni nel mio mondo non succede niente visitatore il semplice fatto che sei cosciente del tuo mondo implica il dualismo insito in ogni esperienza Maraj verbalmente sì ma le tue parole non mi toccano il mio mondo non è verbale nel tuo mondo ciò che non viene detto non ha esistenza nel mio le parole e i loro contenuti non esistono nel tuo mondo niente è stabile nel mio niente cambia il mio mondo è reale mentre il tuo è fatto di sogni visitatore eppure stiamo parlando Maraj il parlare è nel tuo mondo nel mio c'è eterno silenzio il mio silenzio canta la mia vacuità è piena non mi manca niente non puoi conoscere il mio mondo finché non ci sei dentro visitatore a quanto pare nel tuo mondo ci sei solo tu Maraj come puoi dire solo o non solo dato che le parole non fanno al caso ci sono solo io ovvio perché io sono tutto visitatore vieni mai nel nostro mondo Maraj che vuol dire per me andare e venire sono sempre parole io sono da dove dovrei venire e dove dovrei andare visitatore a che mi serve il tuo mondo Maraj dovresti prendere in maggiore considerazione il tuo mondo esaminandolo criticamente e un giorno ti troverai improvvisamente nel mio visitatore che ci guadagno Maraj non ci guadagni niente ti lasci alle spalle ciò che non è tuo e riscopri ciò che non hai mai perso il tuo vero essere visitatore chi governa il tuo mondo Maraj qui non ci sono sovrani né sudditi non c'è nessuna forma di dualismo tu non fai altro che proiettare le idee tue ma qui le tue scritture e i tuoi idee non significano niente visitatore eppure tu hai un nome e una forma e mostri di essere cosciente e attivo Maraj sembro così nel tuo mondo nel mio o soltanto l'essere niente altro voi vi sentite ricchi per le vostre idee di possesso qualità e quantità ma io sono del tutto privo di idee visitatore nel mio mondo c'è irrequietezza angoscia e disperazione sembra che tu viva di qualche rendita interiore mentre io devo fare lo schiavo per vivere Maraj fai come vuoi sei libero di lasciare il tuo mondo per il mio visitatore come faccio Maraj prendi il tuo mondo per ciò che è non per come immagini che sia la discriminazione ti condurrà al distacco il distacco ti garantirà la giusta azione la giusta azione costruirà un ponte interiore verso il tuo vero essere l'azione è una prova di serietà fai con diligenza e fede ciò che ti si dice e tutti gli ostacoli svaniranno visitatore ma tu sei felice Maraj nel tuo mondo sarei tra i più miserabili svegliarsi mangiare parlare andare di nuovo a dormire che noia visitatore quindi non hai neppure voglia di vivere Maraj vivere morire parole prive di significato quando mi vedi vivo sono morto quando pensi che io sia morto sono vivo sei proprio confuso visitatore fino a che punto sei indifferente i dolori del mondo non sono niente per te Maraj mi rendo ben conto dei tuoi problemi visitatore e che fai per risolverli non ho bisogno di fare niente come vengono se ne vanno visitatore se ne vanno per il semplice fatto che presti loro attenzione Maraj sì la difficoltà può essere fisica emotiva o mentale ma è sempre individuale le grandi calamità sono la somma di innumerevoli destini individuali e ci vuole tempo per risolverle ma la morte non è mai una disgrazia visitatore neppure quando un uomo viene ucciso Maraj in questo caso la disgrazia è di chi lo uccide visitatore cianonostante sembra che ci siano due mondi il mio e il tuo Maraj il mio è reale il tuo è mentale visitatore faccio un esempio c'è una roccia un buco nella roccia e una rana nel buco la rana può passare l'intera vita in perfetta beatitudine senza che venga distratta o disturbata davanti alla roccia il mondo continua il suo corso se si raccontasse alla rana del mondo là fuori lei direbbe non esiste una cosa simile il mio mondo è fatto di pace e beatitudine il vostro mondo è solo una struttura mentale non esiste veramente con te è la stessa cosa quando ci dici che il nostro mondo semplicemente non esiste non abbiamo argomenti in comune in base ai quali discutere oppure faccio un altro esempio vado dal medico perché ho il mal di stomaco lui mi visita e dice stai benissimo ma mi fa male insisto il tuo è un dolore mentale afferma lui ma io gli rispondo sapere che è mentale non mi è certo di aiuto sei un dottore devi guarirmi se non sai curarmi non sei il mio medico Maraj giusto visitatore hai costruito una linea ferroviaria ma in mancanza di un ponte non passa nessun treno costruisci un ponte Maraj non c'è bisogno di ponti visitatore deve esserci un collegamento tra il tuo mondo e il mio Maraj non è necessario che ci sia collegamento tra un mondo reale e un immaginario perché non può esserci visitatore allora che devo fare Maraj indaga nel tuo mondo dedicaci la mente esaminalo in maniera critica passa al vaglio ogni idea che hai su di esso funzionerà visitatore il mondo è troppo vasto per un'indagine io so soltanto che esisto che il mondo esiste che il mondo mi fa soffrire che io faccio soffrire il mondo Maraj la mia esperienza è che tutto è beatitudine ma il desiderio di beatitudine crea il dolore quindi la beatitudine diventa il seme del dolore l'intero universo di dolore nasce dal desiderio smetti di desiderare il piacere e non saprai neppure che cos'è il dolore visitatore perché il piacere dovrebbe essere il seme del dolore Maraj perché in nome del piacere commetti molti peccati e i frutti del peccato sono la sofferenza e la morte visitatore tu dici che il mondo non ci serve a niente se non a farci tribolare ma io ho l'impressione che non possa essere così Dio non è un folle a me il mondo sembra una grande opera che serve a trasformare il potenziale in realtà la materia in vita l'inconscio in totale consapevolezza per realizzare il supremo dobbiamo fare esperienza degli opposti come per costruire un tempio abbiamo bisogno di pietre e malta legno e ferro vetri e tegole così per fare di un uomo saggio un maestro di vita e di morte è necessario il materiale costituito da tutte le esperienze al pari di una donna che va al mercato fa provviste di ogni genere torna a casa le cucina e le mette al forno per poi far mangiare il suo signore così noi ci arrostiamo per il bene nel fuoco della vita e nutriamo il nostro Dio Maraj bene se la pensi così agisci in base a quanto dici nutri il tuo Dio ci mancherebbe altro visitatore un bambino va a scuola e impara molte cose che poi non gli saranno di alcuna utilità ma nel corso dell'apprendimento cresce allo stesso modo noi passiamo attraverso innumerevoli esperienze e le dimentichiamo ma nel frattempo continuiamo a crescere e chi è un genanin se non un uomo che ha un grande talento per la realtà il mio mondo non può essere un avvenimento casuale ha un suo significato e deve esserci un piano dietro il mio Dio ha il piano Maraj se il mondo è falso devono esserlo anche il piano e chi lo ha fatto visitatore ecco neghi un'altra volta il mondo tra noi non c'è nessun ponte Maraj non c'è bisogno di ponti il tuo errore sta nel fatto che credi di essere nato non sei mai nato e mai morirai ma tu credi di essere nato un certo giorno in un dato opposto e in un particolare corpo che ritieni tuo visitatore il mondo esiste e io pure è un dato di fatto Maraj perché ti preoccupi del mondo prima di esserti occupato di te stesso tu vuoi salvare il mondo no? ma puoi salvarlo se prima non hai salvato te stesso? e cosa vuol dire essere salvato? salvato da che cosa? dall'illusione salvarsi vuol dire vedere le cose per quelle che sono in realtà io non vedo me stesso in rapporto a qualcuno o a qualcosa neppure all'io qualsiasi cosa possa essere questo io io esisto sempre indefinito sono dentro e al di là intimo e inavvicinabile visitatore come ci sei arrivato? Maraj credendo al mio maestro quando mi ha detto tu solo esisti non ho avuto dubbi sulle prime sono rimasto perplesso ma poi ho realizzato che era assolutamente vero visitatore una convinzione ottenuta con la ripetizione dell'insegnamento? Maraj no con la realizzazione ho scoperto che ero assolutamente cosciente e felice e che solo per sbaglio avevo attribuito l'essere coscienza beatitudine sacidananda al corpo e al mondo dei corpi visitatore non sei un uomo istruito non hai letto molto e ciò che hai letto o ascoltato forse non era in contraddizione io invece sono piuttosto colto ho letto molto e ho scoperto che i libri e gli insegnamenti si contraddicono inevitabilmente quindi tutto ciò che leggo o sento lo prendo con beneficio di dubbio la mia prima reazione è quella di pensare potrebbe essere così ma potrebbe anche non esserlo e dato che la mia mente è incapace di decidere cosa è vero e cosa è falso rimango bloccato e nel dubbio nello yoga una mente dubbiosa è un grande svantaggio Maraj mi fa piacere sentirtelo dire perché anche il mio guro mi ha insegnato a dubitare di tutto e in maniera assoluta mi disse nega l'esistenza di tutto tranne che di te stesso sei tu che con il desiderio hai creato il mondo con i suoi piaceri e i suoi dolori visitatore il mondo deve necessariamente essere pieno anche di dolore Maraj e come potrebbe essere altrimenti per sua stessa natura il piacere è limitato e transitorio il desiderio nasce dal dolore nel dolore cerca il suo appagamento e finisce nel dolore della frustrazione e della disperazione il dolore è il fondamento del piacere ogni ricerca del piacere nasce e finisce nel dolore visitatore tutto ciò che dici mi è chiaro però quando ho qualche problema fisico o mentale la mente diventa ottusa e depressa oppure si mette alla frenetica ricerca del sollievo Maraj che cosa importa è la mente a essere ottusa e irrequieta non tu guarda in questa stanza accade di tutto lo faccio accadere io? no accade e basta lo stesso vale per te il rotolo del destino si svolge e realizza l'inevitabile non puoi cambiare il corso degli eventi ma puoi cambiare il tuo atteggiamento ciò che conta è l'atteggiamento non il semplice avvenimento il mondo è la dimora dei desideri e delle paure non puoi trovarci la pace per averla devi andare oltre il mondo la causa originaria del mondo è l'amore di sé che ti spinge a cercare il piacere e a evitare il dolore sostituisci all'amore di sé l'amore per il sé e il quadro cambia Brahma il creatore è la somma totale di tutti i desideri il mondo è lo strumento per soddisfarli le anime afferrano qualunque piacere desiderino e lo pagano con le lacrime il tempo fa quadrare tutti i conti la legge del saldo finale regna suprema visitatore per essere un superuomo bisogna prima essere un uomo l'umanità è frutto di innumerevoli esperienze i desideri portano all'esperienza quindi a suo tempo e modo il desiderio è una cosa giusta Maraj tutto ciò è vero in un certo senso ma viene il giorno in cui hai messo da parte abbastanza e devi cominciare a costruire da quel momento in poi la discriminazione e il distacco viveca vairagia sono assolutamente necessaria tutto ciò deve essere esaminato attentamente eliminando il superfluo senza esitazioni credimi l'eliminazione non è mai eccessiva perché in realtà niente ha valore sii appassionatamente spassionato questo è tutto 24esima conversazione Dio è l'agente di tutto e il genanin è il non-agente visitatore alcuni maatma illuminati sostengono che il mondo non è né accidentale né un gioco di Dio ma che invece è il risultato e l'espressione di un imponente disegno che mira al risveglio e allo sviluppo della coscienza in tutto l'universo dall'inerzia alla vita dalla non-coscienza alla coscienza dall'uttosità all'intelligenza brillante dal fraintendimento alla chiarezza questa è la direzione in cui il mondo si muove incessantemente e inesorabilmente ovviamente ci sono momenti di pausa e di apparente oscurità quando l'universo sembra inattivo ma la pausa termina e riprende l'azione sulla coscienza dal nostro punto di vista il mondo è una valle di lacrime un posto dal quale fuggire al più presto e con ogni mezzo possibile per gli illuminati il mondo è buono e tende a un obiettivo buono non negano che il mondo è una struttura mentale e che in ultima analisi tutto è uno ma vedono e sostengono che la struttura ha un significato ed è al servizio di un fine altamente desiderabile ciò che chiamiamo il volere di Dio non è il capriccio di una divinità giocosa ma l'espressione dell'assoluta necessità di diventare sempre più amorevoli saggi e capaci di realizzare le infinite potenzialità della vita e della coscienza come il giardiniere ottiene la gloriosa perfezione dei fiori iniziando da un minuscolo seme così tra gli altri esseri viventi Dio coltiva nel suo giardino gli uomini e li fa diventare persone superiori che conoscono amano e operano assieme a Lui quando Dio riposa pralaia chi non ha completato la propria crescita entra per qualche tempo in uno stato di non coscienza mentre i perfetti che sono andati oltre ogni forma e contenuto della coscienza rimangono consapevoli del silenzio universale quando giunge il tempo della nascita di un nuovo universo i dormienti si svegliano e iniziano la loro opera i più progrediti si svegliano per primi e preparano il terreno per gli altri che seguono e quindi trovano forme e modelli di comportamento adatti a farli progredire così va la storia la differenza con il tuo insegnamento è che tu sostieni che il mondo non ha niente di buono e che va evitato altri dicono che il disgusto per il mondo è una fase transitoria necessaria ma temporanea che viene presto sostituita dall'amore che pervade ogni cosa e dalla ferma volontà di agire in accordo con Dio Maraj tutto ciò che dici è giusto se segui il sentiero che porta verso l'esterno pravritti ma sul sentiero del ritorno nivritti è necessario non tenere in alcun conto se stessi io mi posiziono là dove non c'è nulla paramakaja dove non arrivano le parole e i pensieri per la mente è un luogo di oscurità e silenzio assoluti poi la coscienza comincia ad animarsi e risveglia la mente ci da casa che proietta il mondo ma da casa fatto di memoria e immaginazione una volta che è nato il mondo tutto può essere come dici tu è nella natura della mente immaginare i obiettivi lottare per raggiungerli trovare mezzi e modi mostrare energia coraggio e intuizioni questi sono attributi divini e non li nego ma il mio posto è là dove non ci sono differenze dove non esistono le cose e elementi che creano lì sono a casa mia qualunque cosa accada non mi tocca le cose agiscono sulle cose tutto qui libero dai ricordi e dalle aspettative sono fresco innocente e col cuore aperto la mente è il grande agente ma ha carta e ha bisogno di riposo non mancandomi nulla non ho paura di chi dovrei temere non c'è separazione noi non siamo degli o separati esiste solamente un unico sé la realtà suprema in cui il personale e l'impersonale è solo una cosa sola visitatore io voglio soltanto essere in grado di aiutare il mondo marage e che ti dice che non puoi aiutarlo sei tu che hai deciso cosa significa questo aiuto e cosa ci vuole per darlo e poi sei entrato in conflitto con te stesso tra ciò che dovresti e ciò che puoi fare tra necessità e capacità visitatore ma perché lo faccio marage la tua mente proietta una struttura e tu ti ci identifichi è nella natura del desiderio sollecitare la mente a creare un mondo in cui possa essere soddisfatto anche un piccolo desiderio può dare inizio a una lunga catena di azioni figuriamoci un desiderio molto forte i suoi poteri hanno del miracoloso perché riescono a creare un universo come un piccolo fiammifero basta incendiare un'enorme foresta così il desiderio accende il fuoco della manifestazione lo scopo stesso della creazione è quello di soddisfare i desideri un desiderio può essere nobile o ignobile ma lo spazio a casa è neutro e si può riempirlo con ciò che si vuole devi stare molto attento a ciò che desideri e riguardo alle persone che vuoi aiutare ognuna di loro vive in un suo mondo che rispecchia i suoi desideri non c'è modo di aiutare gli altri se non tramite i loro desideri l'unica cosa che puoi fare è insegnare loro a nutrire desideri nobili in modo che possano superarli ed essere liberi dal bisogno impellente di creare e ricreare mondi di desiderio di moree di dolori e piaceri visitatore viene il giorno in cui lo spettacolo finisce l'uomo deve morire e il suo universo ha termine marage come un uomo che dorme dimentica tutto e si sveglia a un nuovo giorno o muore e riemerge in una nuova vita così i mondi del desiderio e della paura si risolvono e scompaiono ma il testimone universale il sé supremo non dorme e non muore mai il grande cuore batte in eterno e a ogni battito nasce un nuovo universo visitatore ma il cuore ne è consapevole marage è al di là di tutto ciò che la mente concepisce oltre l'essere e il non essere è il sì e il no di tutto al di là e all'interno crea e distrugge è reale e al di là dell'immaginazione visitatore Dio e il maatma illuminato sono uno o due marage sono un tutt'uno visitatore deve esserci qualche differenza marage Dio è l'agente di tutto il genanin è il non agente Dio stesso non dice io faccio tutto le cose gli accadono per loro stessa natura secondo il genanin tutto è fatto da Dio non vede differenze tra Dio e la natura sia Dio che i genanin sanno di essere il centro immobile del movimento l'eterno testimone del transitorio il centro è un punto vuoto e il testimone è un punto di pura consapevolezza entrambi sanno di essere in nulla e quindi niente può resistere loro visitatore qual è la tua esperienza a riguardo marage non essendo niente sono tutto tutto è me tutto è mio come il mio corpo si muove al solo pensiero del movimento così le cose accadono non appena le penso attento però io non faccio niente le vedo semplicemente accadere visitatore accadono come le vuoi tu o vuoi che cadano come accadono marage in entrambi i modi accetto e vengo accettato io sono tutto e tutto è me essendo il mondo non ne ho paura essendo tutto che cosa dovrei temere l'acqua non ha paura dell'acqua come il fuoco non teme il fuoco inoltre non ho paura perché non sono nulla che possa provare paura o essere in pericolo non ho forma né nome è l'attaccamento al nome alla forma che provoca paura io non ho attaccamenti io non sono niente e il nulla non ha paura di niente invece ogni cosa ha paura del nulla perché quando tocca il nulla diventa un niente è come un pozzo senza fondo qualunque cosa ci cada dentro sparisce visitatore Dio è una persona? marage finché pensi di essere una persona anche lui lo è quando sei il tutto lo vedi come totalità visitatore posso cambiare i fatti mutando atteggiamento marage l'atteggiamento è il fatto prendi la collera posso essere furioso misurando la stanza in lungo e in largo allo stesso tempo so chi sono un centro di saggezza e amore un atomo di pura esistenza tutto cessa e la mente sprofonda nel silenzio visitatore eppure a volte sei in collera marage con chi e perché dovrei arrabbiarmi la collera è venuta e si è dissolta nel momento in cui mi sono ricordato chi sono è tutto un gioco delle qualità aguna della materia cosmica quando mi ci identifico divento loro schiavo quando me ne distacco sono il loro padrone visitatore puoi influenzare il mondo con questo atteggiamento separandoti dal mondo perdi ogni speranza di aiutarlo marage come può essere tutto è me stesso non posso aiutare me stesso io non mi identifico con nessuno in particolare perché sono tutto sia il particolare che l'universale visitatore allora puoi aiutare me questa persona in particolare marage ma io ti aiuto in continuazione dall'interno il mio sé e il tuo sé sono un tutt'uno io lo so ma tu no questa è l'unica differenza ma non può durare visitatore e in che modo aiuti il mondo intero marage gandhi è morto eppure la sua mente pervade la terra il pensiero di un genanin pervade l'umanità e opera incessantemente per il bene essendo anonimo e venendo dall'interiorità è il pensiero più potente e irresistibile ecco come il mondo migliora l'interiorità aiuta e benedice l'esterno quando un genanin muore non esiste più proprio come succede a un fiume che si mescola con il mare il nome e la forma non ci sono più ma l'acqua rimane e diventa un tutt'uno con l'oceano quando un genanin si ricongiunge alla mente universale la sua bontà e la sua saggezza diventano patrimonio dell'umanità ed elevano ogni essere umano visitatore proviamo attaccamento per la nostra personalità diamo un enorme valore alla nostra individualità al nostro essere diversi dagli altri secondo te sono cose inutili a cosa ci serve il tuo essere non manifesto marage non manifesto manifesto individualità personalità nirguna saguna viatta viatti non sono altro che parole punti di vista atteggiamenti mentali non hanno realtà si ha esperienza del reale soltanto nel silenzio tu sei attaccato alla personalità ma sei cosciente di essere una persona solamente quando hai dei problemi quando non ne hai non pensi a te stesso visitatore non mi hai detto a cosa serve il non manifesto marage è chiaro che per svegliarti devi prima dormire devi morire per vivere fonderti per assumere una nuova forma devi distruggere per costruire annullarti prima di ricrearti il supremo è il solvente universale che corrode qualsiasi contenitore e incenerisce ogni ostacolo senza l'assoluta negazione di tutto la tirannia delle cose sarebbe assoluta il supremo è il grande armonizzatore il garante dell'ultimo e perfetto equilibrio della vita nella libertà ti dissolve e così riafferma il tuo vero essere visitatore va tutto bene a questo livello ma come funziona nella vita quotidiana Maraj il quotidiano è vita in azione che ti piaccia o no devi agire qualunque cosa tu faccia per te stesso si accumula e diventa esplosiva un giorno o l'altro finisce e rovina sia te che la tua mente quando inganni te stesso dicendoti che operi per il bene di tutti peggiori le cose perché non dovresti farti guidare dalla tua idea di ciò che è bene per gli altri un uomo che afferma di sapere qual è il bene per gli altri è pericoloso visitatore allora come devo agire Maraj né per te stesso né per gli altri ma per l'azione in sé una cosa che vale la pena di fare è già in sé lo scopo e il significato non fare di alcunché un mezzo per qualcos'altro non creare legami Dio non crea una cosa perché serva a un'altra ognuna è fatta per sé e non interferisce tu usi le cose e le persone per fini a loro estranei e rovini il mondo e te stesso visitatore dici che il nostro vero essere è sempre con noi com'è che non lo notiamo Maraj sì tu sei sempre il supremo ma la tua attenzione si fissa sugli oggetti fisici o mentali nell'intervallo in cui l'attenzione è lontana da un oggetto e non si è ancora fissata su un altro tu sei puro essere quando perdi di vista gli stati sensoriali e mentali tramite la pratica della discriminazione e del distacco viveca Vairagya il puro essere emerge come stato naturale visitatore come si pone fine a questo senso di separazione Maraj concentrando la mente sull'io sono sulla sensazione di essere l'io sono così e così si dissolve rimane l'io sono soltanto un testimone e anche questo si fonde nell'io sono tutto poi il tutto diventa l'uno e l'uno diventa te stesso non separato da me abbandona l'idea di un io separato e non si porrà più la domanda chi fa l'esperienza visitatore questa è la tua esperienza come posso renderla mia Maraj parli della mia esperienza come se fosse differente dalla tua perché credi che siamo separati ma non lo siamo a un livello più profondo la mia esperienza è la tua scava in profondità dentro te stesso ti sarà facile e semplice scoprirlo vai in direzione dell'io sono venticinquesima conversazione attieniti all'io sono visitatore sei mai felice o triste conosci la gioia e il dolore Maraj chiamali come vuoi per me sono soltanto stati mentali e io non sono la mente visitatore l'amore è uno stato mentale Maraj anche in questo caso dipende da cosa intendi per amore ovviamente il desiderio è uno stato mentale ma la realizzazione dell'unità è al di là della mente per me niente esiste in sé tutto è il sé tutto è me stesso vedere me stesso in tutti e tutti in me stesso è certamente amore visitatore quando vedo qualcosa di piacevole la voglio esattamente chi la vuole il sé o la mente Maraj la domanda è posta male non c'è un chi c'è il desiderio la paura la collera e la mente dice questo è me questo è mio non c'è niente che possa essere chiamato me o mio il desiderio è uno stato mentale percepito e denominato dalla mente senza la mente che percepisce e denomina dov'è il desiderio visitatore ma è possibile percepire qualcosa senza dargli un nome Maraj certo il nome non può andare oltre la mente mentre la percezione è la coscienza stessa visitatore quando muore qualcuno cosa accade esattamente Maraj non succede niente un qualcosa diventa un niente niente era e niente rimane visitatore c'è sicuramente una differenza tra un vivo e un morto tu parli dei vivi come se fossero morti e dei morti come se fossero vivi Maraj perché te la prendi tanto per uno solo che muore e ti importa poco dei milioni che muoiono ogni giorno interi universi implodono ed esplodono ogni momento dovrei piangerci sopra una cosa mi è molto chiara tutto ciò che esiste vive e si muove perché nasce dalla coscienza mentre io sono dentro e al di là della coscienza ci sono dentro in quanto testimone ne sono al di là in quanto essere visitatore sono sicuro che ti preoccupi quando tuo figlio è ammalato o no Maraj non ne rimango turbato faccio solo il necessario non mi preoccupo per il futuro mi risulta naturale dare la risposta giusta a ogni situazione non mi fermo a pensare sul da farsi ma agisco e vado avanti i risultati non mi toccano non mi importa neppure se sono buoni o cattivi sono quelli che sono e se si ripetono li affronto come fossero nuovi o meglio mi accade di affrontarli come fossero nuovi non ho la sensazione di dover raggiungere uno scopo quando faccio qualcosa le cose accadono come accadono non perché io le faccio accadere ma accadono perché io sono in realtà non accade mai nulla quando la mente è inquieta fa danzare sciva come le acque mosse del lago fanno ballare la luna è tutta apparenza dovuta a idee sbagliate visitatore di sicuro sei consapevole di molte cose e ti comporti secondo la loro natura tratti un bambino da bambino e un adulto da adulto marage come il gusto di sale pervade l'oceano e ogni singola goccia di acqua marina ha lo stesso sapore salato così ogni esperienza mi dà un assaggio della realtà la realizzazione sempre nuova del mio essere visitatore esisto nel tuo mondo come tu nel mio marage è chiaro che tu sei e io sono ma solo come punti nella coscienza non siamo niente senza la coscienza capisci mi bene il mondo pende dal filo della coscienza nessuna coscienza nessun mondo visitatore ci sono molti punti nella coscienza ma ci sono altrettanti mondi marage prendi il sogno per esempio in un ospedale ci sono molti pazienti tutti dormono e sognano ma ognuno ha il suo sogno personale che non è collegato e influenzato da quelli altrui ma che ha un solo fattore in comune la malattia allo stesso modo con l'immaginazione ci siamo separati dal mondo reale dell'esperienza comune e ci siamo rinchiusi in una nuvola di desideri e paure individuali di immagini e pensieri idee e concetti visitatore questo riesco a capirlo ma quale potrebbe essere la causa dell'enorme varietà dei mondi individuali marage non è tanto enorme tutti i sogni si sovrappongono a un unico mondo comune e in qualche misura si modellano e si influenzano vicendevolmente l'unità di base opera comunque alla radice di tutto c'è la dimenticanza di sé il non sapere chi si è visitatore per dimenticare bisogna sapere sapevo chi ero prima di dimenticarlo marage certo la dimenticanza di sé è inerente alla conoscenza di sé coscienza e non coscienza sono due aspetti di un'unica vita coesistono per conoscere il mondo dimentichi l'io per conoscere l'io dimentichi il mondo dopo tutto cos'è il mondo una raccolta di ricordi attieniti alla sola cosa che conti aggrappati all'io sono e lascia andare tutto il resto questo è il sadhana nella realizzazione non c'è niente a cui aggrapparsi e niente da dimenticare tutto è conosciuto niente è ricordato visitatore qual è la causa della dimenticanza di sé marage non c'è causa perché non c'è dimenticanza gli stati mentali si susseguono e ognuno cancella il precedente il ricordo di sé è uno stato mentale quanto lo è la dimenticanza si alternano come il giorno e la notte la realtà è al di là di entrambi visitatore di sicuro deve esserci una differenza tra dimenticare e non sapere il non sapere non ha bisogno di cause dimenticare presuppone una precedente conoscenza e anche la tendenza o la capacità di dimenticare ammetto che non posso indagare sui motivi della non conoscenza ma la dimenticanza deve avere una base di partenza marage non esiste la non conoscenza c'è soltanto la dimenticanza che male c'è nel dimenticare è altrettanto semplice dimenticare che ricordare visitatore non è una disgrazia dimenticare chi si è marage non è peggiore del ricordarsene continuamente c'è uno stato che sta oltre il dimenticare e il non dimenticare lo stato naturale ricordare dimenticare sono tutti stati mentali legati al pensiero e alla parola prendi come esempio l'idea di essere nati mi viene detto che sono nato ma io non lo ricordo mi dicono che morirò ma io non me lo aspetto tu mi dici che ho dimenticato o che manco di immaginazione però io non posso ricordare ciò che non è mai accaduto né aspettarmi ciò che è evidentemente impossibile i corpi nascono e muoiono ma io che centro i corpi vanno e vengono nella coscienza e la coscienza stessa ha le sue radici in me io sono la vita e i miei sono il corpo e la mente visitatore dici che all'origine del mondo c'è la dimenticanza di sé per dimenticare devo ricordare cosa ho dimenticato di ricordare non ho dimenticato che io sono maraj anche questo io sono potrebbe far parte dell'illusione visitatore e come non puoi provare che io non sono anche quando sono convinto di essere io sono maraj la realtà non può essere provata o non provata entro i limiti della mente non è possibile oltre la mente non ce n'è bisogno nel reale la domanda cosa è reale non si pone il manifesto saguna e il non manifesto nirguna non sono differenti visitatore in questo caso tutto è reale maraj io sono tutto in quanto me stesso tutto è reale senza di me niente è reale visitatore non mi sembra che il mondo sia il risultato di uno sbaglio maraj puoi dire così soltanto dopo aver indagato a fondo non prima ovviamente quando discrimini e abbandoni tutto ciò che non è reale quanto rimane è reale visitatore rimane qualcosa maraj rimane il reale ma non lasciarti fuorviare dalle parole visitatore da tempo immemorabile e attraverso innumerevoli nascite costruisco miglioro e abbellisco il mio mondo non è perfetto né il reale è un processo maraj ti sbagli il mondo non esiste senza di te in ogni momento non è altro che un riflesso di te tu lo crei e tu lo distruggi visitatore e lo ricostruisco migliorato maraj per migliorarlo devi prima peggiorarlo devi morire per vivere non c'è rinascita se non tramite la morte visitatore il tuo universo può essere perfetto ma il mio è in via di miglioramento maraj il tuo universo personale non esiste in sé non è altro che una visione limitata è distorta del reale non è l'universo che ha bisogno di miglioramenti ma il tuo modo di vederlo visitatore e tu come lo vedi maraj è un palcoscenico su cui si recita il dramma del mondo l'unica cosa che conta è la qualità dello spettacolo non ciò che gli attori dicono e fanno ma come lo dicono e lo fanno visitatore non mi piace l'idea del mondo inteso come lì la gioco lo paragonerei piuttosto a un cantiere in cui noi siamo i costruttori maraj la prendi troppo seriamente che male c'è nel gioco tu hai uno scopo solo finché non sei completo purna fino ad allora lo scopo è la completezza la perfezione solamente quando sei completo in te stesso pienamente integrato all'interno e all'esterno puoi goderti l'universo senza bisogno di lavorarci a chi non è integrato può sembrare che tu lavori duramente ma è una sua illusione sembra che gli sportivi compiano tremendi sforzi ma la loro unica motivazione è mettersi in mostra per gioco visitatore vuoi dire che Dio non fa altro che divertirsi e impegnarsi in un'azione senza scopo maraj Dio non è soltanto vero e buono ma anche bello satyam sivam sundaram ed è lui che crea la bellezza per il piacere di farlo visitatore allora il suo scopo è la bellezza maraj perché ci metti di mezzo lo scopo lo scopo implica movimento cambiamento un senso di imperfezione Dio non mira la bellezza tutto ciò che fa è bello vorresti dire che un fiore cerca di essere bello è bello per la sua stessa natura similmente Dio è la perfezione stessa non un tentativo di perfezione visitatore lo scopo si realizza nella bellezza maraj che cosa è bello qualunque cosa venga percepita in uno stato di beatitudine è bella la beatitudine è l'essenza della bellezza visitatore tu parli di sacchitananda o sacchidananda essere coscienza e beatitudine che io sono è evidente che io conosco è evidente ma non è affatto evidente che io sia felice dove è andata la mia felicità maraj sii pienamente consapevole del tuo essere e ti ritroverai coscientemente in uno stato di beatitudine ma siccome tu separi la mente da te stesso e la fai soffermare su ciò che non sei perdi il senso di benessere e di star bene visitatore ci sono due sentieri di fronte a noi il sentiero dello sforzo yoga marga e quello del rilassamento boga marga entrambi conducono alla stessa meta la liberazione maraj perché dici che il boga è un sentiero mistico come puoi al rilassamento portarti alla perfezione visitatore la perfetta rinuncia dello yogi conduce alla realtà come pure il perfetto godimento del bogin maraj come può essere non è una contraddizione visitatore gli opposti si incontrano essere un perfetto bogin è più difficile da essere un perfetto yogi io sono una persona modesta e non posso azzardare giudizi dopo tutto sia lo yogi che il bogin vanno alla ricerca della felicità lo yogi la vuole permanente mentre il bogin si accontenta di quella intermittente spesso il bogin si sforza molto più dello yogi maraj a che serve la tua felicità se devi sforzarti e lavorare sodo per ottenerla la vera felicità è spontanea e senza sforzo visitatore tutti gli esseri viventi cercano la felicità cambiano soltanto i mezzi alcuni la cercano all'interno e quindi sono chiamati yogi altri la cercano all'esterno e vengono condannati come bogin eppure hanno bisogno gli uni degli altri maraj il piacere e il dolore si alternano la felicità è inammovibile quella che puoi cercare e trovare non è reale trova ciò che non hai mai perso scopri l'inalienabile ventiseiesima conversazione l'ostacolo della personalità visitatore a quanto vedo il mondo è una scuola di yoga e la vita stessa è una pratica yogica tutti si sforzano di raggiungere la perfezione lo yoga è sforzo non c'è niente dispregievole nei cosiddetti uomini comuni e nelle loro vite comuni lottano e soffrono molto come gli yogi solo che non sono coscienti del loro vero fine maraj in che senso le persone comuni sono degli yogi visitatore il loro fine ultimo è lo stesso l'uomo comune realizza con l'esperienza boga ciò che lo yogi si procura con la rinuncia tiaga la vita del boga è inconsapevole e di conseguenza ripetitiva e protratta mentre quella dello yoga è deliberata e intensa e può essere quindi più rapida maraj forse le fasi di yoga e di boga si alternano prima si è bhogin dopo yogi e poi ancora bhogin e di nuovo yogi visitatore che scopo ci sarebbe maraj i desideri deboli possono essere rimossi dall'introspezione e dalla meditazione ma quelli intensi e ben radicati devono essere soddisfatti e bisogna assaggiarne i frutti dolci o amari che siano visitatore allora perché dovremmo rispettare gli yogi e disprezzare i bhogin in un certo senso sono tutti yogi maraj nella scala dei valori umani lo sforzo deliberato è considerato lodevole in realtà sia lo yogi che il bhogin seguono la loro natura a seconda delle circostanze e delle opportunità la vita dello yogi è dominata da un solo desiderio trovare la verità il bhogin invece obbedisce a molti padroni ma il bhogin può diventare yogi e lo yogi può ritornare per un breve periodo alle attività del boga il risultato finale è lo stesso visitatore il buddha disse che è di estrema importanza venire a sapere che esiste l'illuminazione e che può avvenire un ravesciamento e una trasformazione totale nella coscienza la buona novella è paragonata a una scintilla in un carico di cotone lentamente ma inesorabilmente tutto il carico verrà ridotto in cenere allo stesso modo la buona novella dell'illuminazione provocherà prima o poi una trasformazione maraj sì prima ascoltare sravana poi ricordare smarana e poi ancora ponderare manana e così via è un argomento conosciuto chi ha ascoltato la buona novella diventa uno yogi mentre gli altri continuano nel loro boga visitatore allora sei d'accordo sul fatto che la vita il semplice vivere una vita monotona nascere per vivere e morire per rinascere faccia progredire l'essere umano per forza d'inerzia proprio come il fiume si fa strada verso il mare solo grazie alla massa d'acqua che porta maraj la coscienza esisteva già prima che ci fosse il mondo perché il mondo nasce dura e si dissolve nella pura coscienza alla base di tutto c'è la sensazione di essere l'io sono lo stato mentale che dice c'è il mondo è secondario per essere non ho bisogno del mondo è il mondo che ha bisogno di me per esistere visitatore il desiderio di vivere è molto forte maraj ma è più forte la libertà dal desiderio impellente di vivere visitatore la libertà della pietra maraj sì la libertà della pietra è molto di più libertà è illimitata e cosciente visitatore non c'è bisogno della personalità per fare esperienze maraj per come sai adesso la personalità è soltanto un ostacolo l'identificazione con il corpo può andare bene per un neonato ma la vera crescita comporta il distacco dal corpo normalmente dovremmo liberarci dai desideri legati al corpo nei primi anni di vita persino il bogin che non rifiuta il godimento non ha bisogno di aggrapparsi alle gioie di cui ha goduto l'abitudine il desiderio di ripetere frustra sia lo yogi che il bogin visitatore perché continui a non accordare alcuna importanza alla persona viatti la personalità è il fattore primario della nostra esistenza occupa tutta la scena maraj in che non ti accorgerai che la personalità è soltanto un'abitudine costruita sul ricordo e alimentata dal desiderio ti riterrai una persona che vive percepisce pensa è attiva o passiva contenta o addolorata mettiti in questione domandati ma è proprio così chi sono io cosa c'è dietro e al di là presto vedrai il tuo errore e per sua natura l'errore cessa quando è riconosciuto visitatore lo yoga del vivere della vita stessa può essere chiamato yoga naturale nisarga yoga mi ricorda lo yoga primordiale citato nel regveda ed è scritto come il matrimonio della vita con la mente maraj una vita vissuta attentamente in piena consapevolezza è di per sé un nisarga yoga visitatore che significa il matrimonio della vita con la mente comporta questo vivere in spontanea consapevolezza avere coscienza di vivere senza sforzo essere pienamente interessati alla propria vita visitatore sharada devi la moglie di shri ramakrishna paramansa era solita rimproverare i discepoli troppi inclini allo sforzo li paragonava ai frutti del mango colti dall'albero ancora acerbi che fretta c'è diceva aspettate di essere maturi succosi e dolci maraj aveva proprio ragione sono tanti quelli che confondono l'alba con il mezzogiorno una momentanea esperienza in vista della piena realizzazione e per eccesso d'orgoglio distruggono quel poco che hanno ottenuto umiltà e silenzio sono essenziali al sadaka ricercatore per quanti progressi abbia fatto solo un genalin maturo può concedersi la completa spontaneità visitatore in certe scuole di yoga lo studente è obbligato a mantenere il silenzio anche per 7 12 15 o persino 25 anni dopo l'illuminazione anche Sri Ramana Maharshi si impose 20 anni di silenzio prima di iniziare a insegnare maraj sì il frutto interiore deve maturare fino a quel momento bisogna continuare con la disciplina vivendo nella consapevolezza gradualmente la pratica si fa sempre più sottile finché diventa senza forma visitatore anche Krishnamurti parla di vivere nella consapevolezza maraj lui punta sempre al fine ultimo sì in definitiva tutti gli yoga confluiscono nell'adi yoga il matrimonio della coscienza la sposa con la vita lo sposo coscienza ed essere sad chit o sat chit si incontrano nella beatitudine ananda perché sopraggiunga la beatitudine deve esserci l'incontro il contatto l'affermazione dell'unità nella dualità visitatore anche il Buddha ha detto che per raggiungere il nirvana si deve andare incontro agli esseri viventi la coscienza ha bisogno della vita per espandersi maraj il mondo stesso è contatto la totalità di tutti i contatti resi reale nella coscienza lo spirito tocca la materia e ne risulta la coscienza questa inquinata dai ricordi e dalle aspettative diventa un legame l'esperienza pura non crea legami mentre l'esperienza presa tra il desiderio e la paura è impura e produce karma visitatore può esserci felicità nell'unità ogni genere di felicità non implica necessariamente il contatto e quindi la dualità maraj non c'è niente di male nella dualità finché non crea conflitti la molteplicità e la varietà senza sforzo sono gioia nella pura coscienza c'è luce per avere il calore è necessario il contatto al di sopra dell'unità dell'essere c'è l'unione dell'amore l'amore è il significato e il fine della dualità visitatore sono un figlio adottivo non conosco il mio vero padre mia madre è morta nel darmi alla luce il mio patrigno per far piacere alla moglie che non poteva avere figli mi ha adottato quasi per caso è un uomo semplice possiede un camion e fa l'autista mia madre adottiva è casalinga adesso ho 24 anni da due anni e mezzo viaggio in continuazione sempre alla ricerca di qualcosa voglio vivere una vita buona e santa che devo fare Maraj vai a casa occupati degli affari di tuo padre prenditi cura dei tuoi genitori quando diventeranno vecchi sposa la ragazza che ti sta aspettando sii leale semplice e umile nascondi le tue virtù vivi nel silenzio i cinque sensi e le tre qualità Guna sono gli otto gradini dello yoga l'io sono è il grande rammentatore maha mantra puoi imparare da loro tutto ciò che ti serve sii attento indaga incessantemente è tutto visitatore se vivere la propria vita è sufficiente a liberarsi perché non siamo tutti liberati Maraj t'hanno tutti per essere liberati non conta ciò che vivi ma come lo vivi l'idea dell'illuminazione è della massima importanza il solo sapere che c'è questa possibilità cambia totalmente la propria prospettiva ha lo stesso effetto di un fiammifero acceso in un mucchio di segatura tutti i grandi maestri non hanno fatto nient'altro una scintilla di verità riesce a bruciare una montagna di menzogne ma è vero anche il contrario il sole della verità rimane nascosto dietro la nuvola dell'identificazione con il corpo visitatore diffondere la buona novella dell'illuminazione sembra davvero molto importante maraj il solo sentirla è una promessa di illuminazione il fatto stesso di incontrare un guru assicura la liberazione la perfezione dona la vita ed è creativa visitatore il realizzato pensa mai sono un realizzato non si stupisce quando la gente lo considera eccezionale non si ritiene forse un normale essere umano maraj né normale né fuori dalla norma è soltanto consapevole e affettuoso con grande intensità osserva se stesso senza indulgere in definizioni e identificazioni non si riconosce come separato dal mondo egli è il mondo completamente avulso da se stesso è simile a un uomo molto ricco che però distribuisce continuamente le sue ricchezze non è ricco perché non ha nulla non è povero perché dona in abbondanza è semplicemente privo di possessi allo stesso modo il realizzato è privo di io ha perso la capacità di identificarsi con qualsiasi cosa è senza posizioni o luoghi in cui risiedere è oltre lo spazio e il tempo al di là del mondo oltre le parole e i pensieri visitatore per me è un grande mistero io sono una persona semplice maraj sei tu a essere profondo complesso misterioso è difficile da capire io sono la semplicità stessa paragonato a te io sono ciò che è senza alcuna distinzione tra interno ed esterno mio e tuo buono e cattivo com'è il mondo così sono io come sono io così è il mondo visitatore com'è che ogni essere umano crea il suo mondo maraj quando diverse persone dormono ognuna sogna il proprio sogno solo al risveglio si pone la questione dei vari sogni e si dissolve quando sono visti tutti come sogni come qualcosa di immaginato visitatore anche i sogni hanno il loro fondamento maraj nella memoria e anche in questo caso ciò che è ricordato non è altro che un sogno il ricordo del falso può solo creare falsità non c'è niente di sbagliato nella memoria in sé il falso sta nel suo contenuto ricorda i fatti dimentica le opinioni visitatore cos'è un fatto maraj ciò che viene percepito nella pura consapevolezza non influenzato da desideri e paure è un fatto ventisettesima conversazione il senza inizio visitatore l'altro giorno ti ho chiesto della via della rinuncia yoga e di quella del godimento boga la differenza non è poi grande come sembra lo yogi rinuncia a godimento mentre il bogin gode a rinunciare lo yogi per prima cosa rinuncia il bogin innanzitutto gode maraj e allora lascia lo yogi al suo yoga e il bogin al suo boga visitatore la via del boga mi sembra migliore lo yogi è come un mango verde staccato prematuramente dall'albero e lasciato a maturare in un cesto tenuto al caldo e con poca aria certamente maturerà ma l'aroma e la fragranza andranno perduti il mango lasciato sull'albero si svilupperà a pieno nelle sue dimensioni nel colore e nella dolcezza diventando una delizia eppure lo yoga riceve in qualche modo tutte le lodi e il bog ha tutte le condanne per come la vedo io il migliore è il boga maraj che cosa te lo fa dire visitatore ho osservato gli yogi e i loro enormi sforzi anche quando si realizzano rimane una certa amarezza o severità sembra che passino molto del loro tempo in uno stato di estasi e quando parlano non fanno altro che citare le scritture nel migliore dei casi questi genanin sono come fiori perfetti ma piccoli fiori che diffondono il loro profumo a breve raggio altri invece sono simili alle foreste ricchi variegati immensi pieni di sorprese un mondo a sé deve esserci un motivo per tali differenze maraj l'hai già detto tu secondo te uno rimane intrappolato nel suo yoga mentre l'altro fiorisce nel boga visitatore e non è così? lo yogi ha paura della vita e cerca la pace mentre il bogin è avventuroso pieno di iniziativa e proiettato in avanti lo yogi è legato a un ideale mentre il bogin è sempre pronto a esplorare maraj è questione di volere molto o accontentarsi di poco lo yogi è ambizioso mentre il bogin è soltanto avventuroso il tuo bogin sembra più ricco e interessante ma in realtà non lo è lo yogi è stretto come la lama affilata di un coltello deve esserlo per tagliare facilmente e in profondità per penetrare con precisione nei tanti strati del falso il bogin prega davanti a molti altari lo yogi non dipende da nessuno che non sia il suo vero sé non c'è motivo di contrapporre lo yogi al bogin il sentiero che porta verso l'esterno pravritti precede necessariamente il sentiero del ritorno nivritti starsene seduti a dare giudizi e voti è ridicolo tutto contribuisce alla perfezione ultima alcuni dicono che ci sono tre aspetti della realtà verità saggezza beatitudine chi cerca la verità diventa uno yogi chi cerca la saggezza diventa un janin chi cerca la felicità diventa un uomo d'azione visitatore si parla anche della beatitudine della non dualità maraj questa beatitudine ha più che altro le caratteristiche della grande pace piacere e dolore sono frutti delle azioni virtuose e non visitatore dov'è la differenza maraj sta tra il dare e l'afferrare qualunque sia l'approccio alla fine tutto si unifica visitatore se non c'è differenza nella meta finale perché discriminare sui vari approcci maraj lascia che ognuno agisca secondo la sua natura il fine ultimo sarà servito in ogni caso tutte le tue discriminazioni e classificazioni vanno benissimo ma per me non esistono come la descrizione di un sogno può essere dettagliata e accurata pur non avendo alcun fondamento reale così il tuo schema si adatta soltanto alle tue supposizioni parti da un'idea e vai a finire alla stessa idea sotto diverse spoglie visitatore tu come vedi le cose maraj una o tutte sono identiche per me la stessa coscienza cit appare come essere sat e come beatitudine ananda il cit in movimento è ananda il cit in moto è essere visitatore però fai una distinzione tra movimento e immobilità maraj la non distinzione parla in silenzio le parole producono distinzioni il non manifesto nirguna non ha nome tutti i nomi si riferiscono al manifesto saguna è inutile dibattersi tra le parole per esprimere ciò che è oltre le parole la coscienza cit è spirito purusa la coscienza è materia prakrati lo spirito imperfetto è materia la materia perfetta è spirito all'inizio come alla fine tutto è uno le divisioni sono nella mente citta nella realtà non esistono movimento e quiete sono stati mentali e non possono esistere senza i loro opposti niente si muove e niente riposa da sé è un grave errore attribuire esistenza assoluta ai costrutti mentali niente esiste di per sé visitatore sembra che identifichi la quiete con lo stato supremo maraj c'è la quiete come stato mentale c'è la quiete e come stato dell'essere la prima va e viene mentre la vera quiete è il cuore dell'azione sfortunatamente il linguaggio è uno strumento mentale e funziona solo per opposti visitatore come testimone sei in uno stato di azione o di quiete maraj testimoniare è un'esperienza e la quiete è libertà dall'esperienza visitatore non possono coesistere come nell'oceano coesistono la furia delle onde e la quiete degli abissi maraj al di là della mente non esiste esperienza che è uno stato dualistico non puoi parlare della realtà come di un'esperienza una volta capito questo non cercherai più l'essere e il divenire come separati e opposti in realtà sono una cosa unica e inseparabili come le radici e i rami dello stesso albero entrambi possono esistere solo nella luce della coscienza che a sua volta nasce quando sorge la sensazione di essere dell'io sono è questo l'aspetto fondamentale se ti sfugge questo ti sfugge tutto visitatore la sensazione di essere è soltanto un prodotto dell'esperienza il famoso detto mahavakya tatsat quello è la verità è una semplice formulazione mentale maraj qualsiasi cosa detta non è che una parola tutto quanto viene pensato non è che pensiero il vero significato è inesplicabile ma se ne può fare esperienza il mahavakya dice il vero ma le tue idee sono false perché tutte le idee kalpana lo sono visitatore è falsa anche la convinzione e io sono quello maraj ovviamente la convinzione è uno stato mentale in quello non c'è nessun io sono quando emerge il senso dell'io sono quello viene oscurato come le stelle scompaiono al sorgere del sole ma se con il sole viene la luce assieme alla sensazione di essere viene la beatitudine ci da nanda quando la causa della beatitudine viene ricercata nel non io inizia la schiavitù visitatore sei sempre consapevole del tuo vero stato nella vita quotidiana maraj né consapevole né inconsapevole non ho bisogno di convinzioni vivo di coraggio il coraggio è la mia essenza che è amore per la vita sono libero dai ricordi e dalle anticipazioni non mi curo di chi sono o non sono non ho la mania di descrivermi soham ebrahamasmi io sono lui io sono l'assoluto non mi sono di alcuna utilità io ho il coraggio di essere in quanto nulla e dividere il mondo per ciò che è un niente sembra una cosa semplice provaci visitatore cosa ti dà il coraggio maraj che visione contorta che hai secondo te c'è bisogno che il coraggio venga dato la tua domanda implica che l'ansia sia la condizione normale mentre il coraggio no invece è proprio il contrario l'ansia e la speranza nascono dall'immaginazione ma io ne sono libero io sono semplicemente l'essere e non ho bisogno di niente su cui poggiarmi visitatore se non conosci te stesso a che ti serve il tuo essere per essere contento di ciò che sei devi sapere cosa sei maraj l'essere riluce in quanto conoscenza e la conoscenza acquista calore nell'amore è un tutt'uno tu immagini delle separazioni e ti affliggi con le tue domande non preoccuparti eccessivamente di formularle perché è impossibile descrivere il puro essere visitatore a meno che una cosa non sia conoscibile e fruibile non mi ha di alcuna utilità deve innanzitutto diventare parte della mia esperienza maraj vai abbassando la realtà al livello dell'esperienza come può la realtà dipendere dall'esperienza se è il fondamento stesso ad ara dell'esperienza la realtà è nel fatto in sé non nel tipo di esperienza fatta in fin dei conti l'esperienza è uno stato mentale mentre l'essere non lo è di certo visitatore sono di nuovo confuso l'essere sat è separato dalla conoscenza maraj la separazione è apparente il sogno non è separato dal sognatore come non lo è la conoscenza rispetto all'essere il sogno è il sognatore la conoscenza è il conoscitore la distinzione è puramente verbale visitatore ora capisco che sat e cit sono la stessa cosa ma la beatitudine ananda essere e coscienza sono sempre presenti contemporaneamente ma la beatitudine appare solo occasionalmente maraj lo stato indisturbato dell'essere è beatitudine quello disturbato è ciò che appare come mondo nella non dualità c'è beatitudine nella dualità c'è esperienza ciò che va e viene è l'esperienza con la sua dualità di dolore e piacere la beatitudine non può essere conosciuta l'uno è sempre beatitudine ma non è mai beato la beatitudine non è un attributo visitatore ho un'altra domanda alcuni yogi raggiungono la loro meta ma senza alcun beneficio per gli altri non sanno o non possono condividere il risultato raggiunto quelli che riescono a condividere ciò che hanno danno l'iniziazione agli altri dov'è la differenza? maraj non c'è differenza il tuo approccio è sbagliato non ci sono altri da aiutare a un uomo ricco che lascia le sue fortune alla famiglia non rimane neppure una monetina da dare al mendicante altrettanto accade al saggio lo jnanin che si è spogliato di tutti i poteri e possessi niente letteralmente niente può essere detto di lui non può aiutare nessuno perché è ognuno è il povero e la sua povertà il ladro e il furto come si può dire che aiuti qualcuno se non ne è separato chi aiuti il mondo chi se ne sente diviso visitatore eppure c'è dualità c'è dolore c'è bisogno di aiuto denunciarli come semplici sogni non porta a niente maraj l'unica cosa che può essere di aiuto è risvegliarsi dal sogno visitatore ma serve qualcuno che ti svegli maraj già uno che a sua volta sta nel sogno il risveglio significa l'inizio della fine non ci sono sogni eterni visitatore anche quando non hanno inizio maraj tutto inizia con te cos'altro è senza inizio visitatore io ho avuto inizio con la nascita maraj così ti hanno detto ma è vero ti sei visto mentre avevi inizio visitatore allora ho inizio in questo momento tutto il resto è un ricordo maraj giusto il senza inizio riinizia sempre allo stesso modo io do in continuazione perché non ho niente essere niente non avere niente non tenere niente per sé è il dono più grande la massima generosità visitatore non rimane nessuna preoccupazione per se stessi maraj certo che mi occupo di me stesso ma questo me stesso è il tutto in pratica assume la forma della buona volontà infallibile e universale puoi chiamarla amore che pervade ogni cosa che tutto redime questo amore è estremamente attivo ma privo della sensazione di fare ventottesima conversazione ogni sofferenza nasce dal desiderio visitatore vengo da un paese lontano ho avuto delle esperienze interiori e vorrei metterle a confronto maraj ma certo conosci te stesso visitatore so di non essere il corpo e la mente maraj cosa te lo fa dire visitatore non mi sembra di essere il corpo ho l'impressione di essere in ogni luogo per quanto riguarda la mente posso per così dire accenderla e spegnerla questo mi dà la sensazione di non essere la mente maraj quando ti senti in ogni parte del mondo rimani separato dal mondo oppure sei il mondo visitatore una cosa e l'altra a volte ho la sensazione di non essere né il corpo né la mente ma ho un unico occhio che vede tutto quando vado più in profondità scopro di essere tutto ciò che vedo io e il mondo diventiamo un tutt'uno maraj molto bene e che mi dici dei desideri ne hai? visitatore sì mi vengono rapidi e superficiali maraj come li affronti? visitatore che posso farci? vanno e vengono li osservo a volte vedo che il corpo e la mente si impegnano a soddisfarli maraj vengono soddisfatti i desideri di chi? visitatore fanno parte del mondo in cui vivo sono lì come gli alberi e le nuvole maraj non sono un segno di qualche imperfezione? visitatore perché dovrebbero esserlo? sono come sono e io sono come sono in che modo potrebbe toccarmi la loro comparsa o scomparsa? certo influenzano la forma e il contenuto della mente maraj molto bene che lavoro fai? visitatore sono un assistente sociale maraj che fai? visitatore quando i minori che hanno commesso un reato vengono rilasciati in libertà vigilata dobbiamo osservare come si comportano li aiutiamo a imparare un mestiere e a trovare un lavoro maraj devi lavorare? visitatore chi lavora? il lavoro accade maraj lavori per necessità visitatore lo faccio per via dei soldi mi piace perché mi metti in contatto con altri esseri umani maraj hai bisogno di loro? visitatore possono essere loro ad aver bisogno di me e sono i loro destini che mi hanno spinto a fare questo lavoro la vita è una sola dopotutto maraj come sei arrivato allo stato in cui ti ritrovi ora? visitatore gli insegnamenti di Sri Ramana Maharshi mi hanno messo sulla giusta via poi ho incontrato Douglas Harding che mi ha aiutato facendomi vedere come si indaga sul chi sono io maraj ci sei arrivato all'improvviso gradualmente visitatore piuttosto all'improvviso come qualcosa di quasi dimenticato che torna in mente o anche come un improvviso lampo di comprensione com'è semplice mi sono detto com'è semplice non sono ciò che pensavo di essere non sono né il percepito né il percettore sono solo la percezione maraj non sei neppure la percezione ma ciò che la rende possibile visitatore cos'è l'amore maraj puoi chiamare amore il momento in cui non c'è il senso di separazione e di distinzione visitatore perché si dà tanta importanza all'amore tra un uomo e una donna maraj perché in esso la componente della felicità ha un posto di preminenza visitatore non è lo stesso in ogni genere d'amore maraj non necessariamente l'amore può causare dolore in quel caso lo chiami compassione visitatore cos'è la felicità maraj è l'armonia tra interiore ed esteriore invece l'identificazione con le cause esterne è sofferenza visitatore come avviene questa identificazione maraj per sua natura l'io conosce soltanto se stesso per mancanza di esperienza scambia per se stesso tutto ciò che percepisce sconfitto impara a discriminare viveca e a vivere da solo vairagya quando il giusto comportamento uparati diventa abituale un'intensa aspirazione interiore momuksutva lo spinge a cercare la propria sorgente la candela del corpo viene accesa e tutto diventa chiaro e illuminoso visitatore qual è la vera causa del dolore maraj l'identificazione con il limitato vi attiva le sensazioni in sé per quanto siano forti non causano sofferenza è la mente disorientata da idee sbagliate e abituata a pensare io sono questo io sono quello che teme la perdita e brama il profitto soffrendo se viene frustrata visitatore ogni notte un mio amico faceva sogni terribili andare a dormire lo terrorizzava niente gli era di aiuto maraj una buona compagnia satsang gli avrebbe giovato visitatore la vita stessa è un incubo maraj la nobile amicizia satsang è il rimedio supremo di tutti i mali fisici e mentali visitatore di solito non si riesce a trovare questo genere di amicizia maraj cerca dentro di te il tuo sé è il miglior amico visitatore perché la vita è piena di contraddizioni maraj servono a distruggere l'orgoglio della mente dobbiamo renderci conto di quanto siamo poveri e impotenti finché ci inganniamo con ciò che immaginiamo di essere avere e fare ci troviamo davvero in una triste situazione solo nella completa negazione di sé c'è la possibilità di scoprire il nostro vero essere visitatore perché dare tanta importanza alla negazione di sé maraj tanta quanta se ne dà alla realizzazione di sé il falso sé deve essere abbandonato prima di trovare il vero sé visitatore il sé che hai scelto di chiamare falso è per me dolorosamente reale è l'unico che conosco ciò che chiami il vero sé è un mero concetto un modo di dire una creazione della mente un attraente fantasma il mio sé quotidiano non è una bellezza lo ammetto ma è l'unico che ho tu dici che ne ho un altro o che lo sono già ma lo vedi è per te una realtà oppure vuoi farmi credere in ciò che neppure tu vedi maraj non correre subito alle conclusioni non è detto che il concreto sia reale e che il concepito sia falso le percezioni basate sulle sensazioni e modellate dalla memoria implicano un percettore ma tu non ti sei mai curato di esaminarne la natura prestagli la tua totale attenzione esaminano con cura amorevole e scoprirai altezze e profondità dell'essere che non hai mai sognato assorbito come sei dalla sparuta immagine di te stesso visitatore devo trovarmi nel giusto stato d'animo per eseminarmi efficacemente maraj devi essere serio dedito sinceramente interessato devi essere pieno di buona volontà verso te stesso visitatore sono già un bel egoista maraj non lo sei passi il tempo a distruggere te stesso e i tuoi simili servendo strani idee falsi e dannosi si egoista ci mancherebbe altro ma nel modo giusto augurati tutto il bene occupati di ciò che è bene per te distruggi tutto quanto si frappone tra te e la felicità sii tutto ama tutto sii felice rendi felice non esiste felicità più grande visitatore perché c'è tanta sofferenza nell'amore maraj ogni sofferenza nasce dal desiderio il vero amore non è mai frustrato come potrebbe essere frustrato il senso di unità solo il desiderio di esprimersi può essere frustrato ma questo è un desiderio della mente è come in tutte le faccende mentali la frustrazione è inevitabile visitatore che posto hai il sesso nell'amore maraj l'amore è uno stato dell'essere il sesso è energia l'amore è saggio il sesso è cieco una volta compresa la vera natura dell'amore e del sesso non ci saranno conflitti e confusioni visitatore c'è tanto sesso senza amore maraj senza amore tutto è male anche la vita visitatore cosa può spingermi ad amare maraj tu sei l'amore stesso quando non hai paura ventinovesima conversazione vivere è l'unico scopo della vita visitatore che vuol dire fallire nello yoga chi è il fallito yoga brasta maraj è solo una questione di incompletezza chi non riesce per qualche motivo a completare il suo yoga è chiamato un fallito è un fallimento solo temporaneo perché nello yoga non può esserci sconfitta la battaglia è sempre vinta perché è una lotta tra il vero e il falso il falso non ha speranze visitatore chi fallisce la persona vi acti o il se manifesto vi acta maraj la domanda è posta male non è questione di fallimento né a breve né a lunga scadenza è come viaggiare su una strada lunga e impervia in un paese sconosciuto degli innemorevoli passi soltanto l'ultimo ti porta a destinazione eppure non consideri un fallimento i passi precedenti ciascuno ti ha avvicinato alla meta anche quando dovevi tornare indietro per superare un ostacolo in realtà ogni passo ti riporta alla meta perché essere sempre in movimento ad apprendere scoprire e svelare è il tuo eterno destino vivere è l'unico scopo della vita il se non si identifica con il successo o il fallimento l'idea stessa di diventare questo o quello è impensabile il se capisce che il successo e il fallimento sono relativi e correlati la trama è l'ordito della vita impara da entrambi e vai oltre se non hai imparato ripeti visitatore cosa devo imparare? Maraj a vivere senza preoccuparti di te stesso per far questo devi sapere che il tuo vero essere svarupa è indomito intrepido e sempre vittorioso una volta che sai con assoluta certezza che niente può turbarti se non la tua immaginazione riesci a non far caso ai desideri e alle paure ai concetti e alle idee e vivi soltanto secondo verità visitatore per quale motivo alcuni riescono e altri falliscono nello yoga per destino per carattere o per puro caso Maraj nessuno fallisce nello yoga è soltanto una questione di quanto velocemente si progredisce il progresso è lento all'inizio e rapido alla fine quando si è pienamente maturi la realizzazione è esplosiva avviene spontaneamente oppure al minimo cenno la velocità non è meglio della lentezza la lenta maturazione e la rapida fioritura si alternano sono entrambe naturali e giuste pure tutto è così soltanto nella mente per come la vedo io non c'è proprio niente del genere nel grande specchio della coscienza le immagini appaiono e scompaiono è solo la memoria da loro continuità ma la memoria è materiale e quindi distruttibile deperibile e transitoria su queste instabili fondamenta noi costruiamo il senso dell'esistenza personale incerto intermittente onirico la vaga persuasione io sono così e così oscura lo stato immutabile della pura consapevolezza e ci fa credere di essere nati per soffrire e morire visitatore come un bambino non può fare a meno di crescere così l'uomo progredisce spinto dalla sua natura allora perché praticare? che bisogno c'è dello yoga? ma Raj c'è sempre progresso tutto contribuisce al progresso ma è il progresso dell'ignoranza i cerchi dell'ignoranza possono allargarsi in continuazione ma si tratta pur sempre di una schiavitù a tempo debito appare un guru che ci ispira e ci insegna a praticare lo yoga e ha luogo una maturazione tramite la quale la notte immemorabile dell'ignoranza si dissolve al sorgere del sole e della saggezza ma in realtà non è mai successo niente il sole è sempre lì e non conosce la notte la mente accecata dall'idea io sono il corpo continua senza tregua a tessere il filo dell'illusione visitatore se tutto fa parte di un processo naturale che bisogno c'è dello sforzo? Maraj anche lo sforzo ne fa parte quando l'ignoranza si fa ostinata e dura e il carattere si corrompe lo sforzo e il dolore che ne deriva diventano inevitabili nella completa obbedienza alla natura non c'è sforzo il seme della vita spirituale cresce nel silenzio e nell'oscurità finché non è la sua ora visitatore alcuni grandi personaggi in tarda età diventano infantili meschini litigiosi e pieni di rancore come possono essersi deteriorati fino a questo punto? Maraj non erano dei perfetti yogi con il completo controllo del corpo oppure possono non essersi presi cura di proteggere il corpo dal naturale decadimento non bisogna trarre conclusioni senza aver capito tutti i fattori e soprattutto non si deve giudicare in termini di superiorità e inferiorità rimanere giovanili è più una questione di vitalità prana che di saggezza jinana visitatore si può invecchiare ma perché si dovrebbe perdere ogni capacità di essere attenti e di discriminare? Maraj l'essere o non essere consapevoli mentre si è nel corpo dipende dalle condizioni del cervello ma il sé è al di là di entrambi oltre il cervello oltre la mente il difetto di uno strumento non ricade su chi lo usa visitatore mi è stato detto che un realizzato non fa mai niente di sconveniente e si comporta sempre in maniera esemplare Maraj chi è di esempio? perché il liberato dovrebbe necessariamente adeguarsi alle convenzioni nel momento in cui diventa prevedibile non può essere libero la sua libertà sta nell'essere libero di soddisfare il bisogno di movimento di obbedire alle necessità della situazione la libertà di fare ciò che si vuole è veramente una schiavitù mentre essere liberi di fare ciò che si deve ciò che è giusto è la vera libertà visitatore eppure deve esserci un modo per capire chi è un realizzato e chi non lo è se uno non è distinguibile dall'altro a che serve essere un realizzato Maraj chi conosce se stesso non ha dubbi a riguardo né si preoccupa se gli altri riconoscono il suo stato o no raro è il realizzato che svela la propria realizzazione e fortunati sono coloro che l'hanno incontrato perché egli lo fa per dar loro un durevole benessere visitatore quando ci si guarda attorno si rimane sgomenti per tutta questa sofferenza inutile le persone che avrebbero bisogno di un aiuto non lo ricevono pensa a una grande corsia di ospedale piena di incurabili che si agitano e gemono se tu fossi autorizzato a ucciderli tutti e a porre fine alle loro torture lo faresti? Maraj lascerei decidere a loro visitatore ma se il loro destino è di soffrire come puoi interferire con il destino? Maraj il loro destino è ciò che accade non esiste il destino avverso vuoi dire che la vita di ognuno è totalmente predeterminata fin dalla nascita? che strana idea se così fosse il potere che la determina farebbe in modo da non far soffrire nessuno visitatore che mi dici della causa ed effetto? Maraj ogni istante contiene l'intero passato e crea l'intero futuro visitatore ma passato e futuro esistono? Maraj solo nella mente il tempo è nella mente come lo è lo spazio anche la legge di causa ed effetto è un modo di pensare in realtà tutto è qui e ora e tutto è uno la molteplicità e la diversità sono solo nella mente visitatore ciò nonostante tu sei favorevole ad alleviare la sofferenza anche con la soppressione di un corpo incurabilmente malato Maraj ancora una volta tu guardi da fuori mentre io guardo da dentro io non vedo il sofferente perché sono il sofferente lo conosco da dentro e faccio il necessario spontaneamente e senza sforzo non seguo né stabilisco regole fluisco assieme alla vita con fede e senza resistenze visitatore eppure sembri un uomo molto pratico che ha il pieno controllo del suo ambiente più immediato Maraj e che ti aspettavi che fossi uno sprovveduto visitatore però non puoi dare un grande aiuto agli altri Maraj ma certo che posso aiutarli anche tu puoi tutti possono essere di aiuto ma la sofferenza si ricrea in continuazione soltanto l'essere umano può estirpare dentro di sé le radici del proprio dolore gli altri possono alleviargli il dolore ma non eliminarne la causa ossia l'abissale stupidità umana visitatore avrà mai fine questa stupidità Maraj nell'essere umano certamente sì in ogni momento nell'umanità per come la conosciamo tra moltissimi anni nella creazione mai perché la creazione stessa ha le sue radici nell'ignoranza la materia stessa è ignoranza non sapere e non sapere di non sapere sono la causa di interminabili sofferenze visitatore si parla dei grandi avatara incarnati i salvatori del mondo Maraj hanno salvato qualcuno sono venuti e se ne sono andati e il mondo arranca certo hanno fatto molto e hanno dimostrato nuove dimensioni al genere umano ma dire che hanno salvato il mondo è un'esagerazione visitatore non c'è salvezza per il mondo Maraj quale mondo vuoi salvare il mondo delle tue proiezioni salvatelo da solo il mio mondo mostramelo e me ne occuperò non sono consapevole di un mondo separato da me che io sono libero di salvare o no che ti importa di salvare il mondo quando l'unica cosa che serve al mondo è essere salvato da te esci di scena e guarda se è rimasto qualcosa da salvare visitatore tu sottolinei il fatto che senza di te il tuo mondo non può esistere e che quindi l'unica cosa da fare è calare il sipario sullo spettacolo ma non è una via d'uscita anche sapere che il mondo è una mia creazione non lo salva lo spiega soltanto rimane quindi la domanda perché ho creato un mondo tanto squallido e cosa posso fare per cambiarlo e tu rispondi dimenticalo e ammira la tua gloria ma certamente non è questo che intendi la descrizione di una malattia e delle sue cause non è la cura ci vuole la medicina giusta ma l'age la descrizione e il rapporto tra cause ed effetto sono la cura per una malattia provocata dall'ottosità e dalla stupidità come un'insufficienza viene curata mediante la somministrazione dell'elemento mancante così il rimedio per le malattie esistenziali consiste in una buona dose di consapevole distacco viveca vai ragia visitatore non puoi salvare il mondo predicando consigli di perfezione le persone sono quelle che sono devono proprio soffrire marage finché sono come sono non hanno scampo rimuovi il senso di separazione e non ci sarà più conflitto visitatore un messaggio stampato può non essere altro che carta e inchiostro ciò che conta è il testo analizzando il mondo attraverso i suoi elementi e le sue qualità ci sfugge l'aspetto più importante il significato il tuo ridurre tutto a un sogno trascura la differenza tra il sogno dell'insetto e quello del poeta sono tutti sogni certo ma non sono tutti uguali marage i sogni non sono tutti uguali ma il sognatore è uno solo io sono l'insetto io sono il poeta nel sogno ma nella realtà non sono né l'uno nell'altro sono al di là di tutti i sogni sono la luce in cui ogni sogno appare e scompare sono sia dentro che fuori del sogno come uno che ha il mal di testa conosce il dolore ma sa che non è il dolore così io conosco il sogno e me stesso mentre sogno e non sogno tutto nello stesso istante io sono ciò che sono prima durante e dopo il sogno ma non sono ciò che vedo in sogno visitatore è solo questione di immaginazione uno immagina di sognare e un altro immagina di non sognare non è lo stesso? marage lo è e non lo è il non sognare come intervallo tra due sogni fa ovviamente parte del sogno non sognare perché si rimane bene ancorati alla realtà ma fuori del tempo non ha niente a che vedere con il sogno in questo senso io non sogno e non sognerò mai visitatore se il sogno è anche la fuga dal sogno sono frutto dell'immaginazione qual è la via di uscita? marage non c'è bisogno di vie di uscita non vedi che anche la via di uscita fa parte del sogno? è sufficiente che tu veda il sogno come sogno visitatore se comincio a rifiutare tutto considerandolo un sogno dove mi porterà questa pratica? marage ovunque ti porterà sarà un sogno l'idea stessa di andare al di là del sogno è illusoria perché devi andare da qualche parte? limitati a renderti conto che stai sognando un sogno che chiami mondo e smetti di cercare via di uscita il sogno non è un tuo problema il tuo problema è che ti piace una parte del sogno e non un'altra amale tutte o nessuna e smettila di lamentarti quando hai visto il sogno come sogno hai fatto tutto il necessario visitatore l'atto di sognare è causato dal pensiero? marage è tutto un gioco di idee nello stato di libertà dai processi mentali nirvikalpa samadhi non viene percepito niente l'idea di base è io sono questa idea frantuma lo stato di pura coscienza ed è seguita da innumerevoli sensazioni e percezioni sentimenti e altre idee che nella loro totalità costituiscono Dio e il suo mondo l'io sono rimane come testimone ma tutto accade per volere di Dio visitatore e perché non per mia volontà? marage ancora una volta ti dividi in due Dio e il testimone ma sono entrambi uno trentesima conversazione sei già libero visitatore ci sono molte teorie sulla natura dell'essere umano e dell'universo la teoria della creazione quella dell'illusione del sogno e tante altre qual è quella vera? marage sono tutte vere e tutte false puoi scegliere quella che ti piace di più visitatore sembra che tu preferisca quella del sogno marage sono tutti modi di mettere assieme le parole c'è chi preferisce un modo e chi un altro le teorie non sono né giuste né sbagliate sono tentativi di spiegare l'inesplicabile non conta la teoria ma il modo in cui è messa la prova è la verifica della teoria che la rende efficace sperimentane una qualsiasi se sei veramente serio e onesto comprenderai il senso della realtà come essere vivente sei imprigionato in una situazione insostenibile e dolorosa dalla quale cerchi di uscire ti hanno dato diversi piani di fuga dalla tua prigione ma nessuno è esatto però hanno tutti un loro valore sempre che tu sia estremamente serio è la serietà che libera non la teoria visitatore la teoria può essere fuorviante e la serietà cieca marage ti guiderà la sincerità la dedizione alla meta della libertà e della perfezione ti farà abbandonare in blocco le teorie e i sistemi e ti permetterà di vivere con saggezza intelligenza e amore intenso le teorie possono essere dei punti buoni di partenza ma devono essere abbandonate al più presto visitatore uno yogi dice che per realizzarsi non è necessario seguire le otto vie dello yoga ma che basta la forza di volontà è sufficiente concentrarsi sulla meta con piena fiducia nel potere della pura volontà per ottenere senza sforzi rapidamente ciò che altri impiegano decine di anni a raggiungere marage concentrazione piena fiducia volontà pura con queste risorse non c'è da meravigliarsi se ci si realizza immediatamente lo yoga della volontà va benissimo per il ricercatore maturo che si è liberato di tutti i desideri tranne uno in fin dei conti cos'è la volontà se non la stabilità di cuore e mente con questa fermezza si può ottenere tutto visitatore mi sembra che quello yogi non intendesse una semplice fermezza nello scopo che si traduce in un'applicazione e in una ricerca incessanti voleva dire che con la mente ben fissa sulla meta non c'è bisogno di applicarsi e ricercare il solo fatto di volere attrae il suo oggetto marage qualunque nome tu gli dia volontà meta fissa unidirezionalità della mente torni sempre alla serietà alla sincerità e all'onestà quando sei estremamente serio sottometti ogni avvenimento ogni attimo della tua vita al tuo scopo non sprechi tempo ed energie con altre cose che si chiami volontà amore o semplice onestà la tua dedizione è totale siamo esseri complessi in guerra dentro e fuori ci contraddiciamo in continuazione disfiamo oggi il lavoro di ieri non c'è da meravigliarsi se ci ritroviamo nei guai sarebbe tutto diverso con un po' di integrità visitatore è più potente il desiderio o il destino marage il desiderio modella il destino visitatore e viceversa i miei desideri sono condizionati dal bagaglio ereditario e dalle circostanze dalle occasioni e dal caso insomma da ciò che chiamiamo destino marage sì puoi dire così visitatore fino a che punto sono libero di desiderare ciò che voglio marage sei già libero fin da adesso cosa vuoi desiderare desideralo visitatore ovviamente sono libero di desiderare ma non solo libero di agire in base ai miei desideri altri bisogni impellenti mi sveieranno il mio desiderio non è abbastanza intenso anche se lo approvo gli altri desideri che non approvo sono più forti marage forse ti inganni è probabile che tu stia esprimendo i tuoi veri desideri ma il nome della rispettabilità tiene in superficie solo quelli che approvi visitatore potrebbe essere come dici tu ma mi sembra un'altra teoria il fatto è che non mi sento libero di desiderare ciò che ritengo giusto e anche quando sembra che io desideri nel modo giusto non agisco di conseguenza marage è tutto dovuto alla debolezza della mente e alla scarsa integrazione del cervello concentrati e rafforza la mente e scoprirai che i pensieri e i sentimenti le parole e le azioni si adegueranno alle direttive della tua volontà visitatore ancora un consiglio di perfezione integrare e rafforzare la mente non è un compito facile da dove inizio marage puoi cominciare da dove ti trovi tu sei qui e ora e non puoi uscirne visitatore ma cosa posso fare qui e ora marage puoi essere consapevole del tuo essere qui e ora visitatore tutto qui marage tutto qui non c'è altro visitatore quando sono sveglio o sogno sono sempre consapevole di me stesso ma non mi aiuta molto marage sei consapevole di pensare sentire e fare ma non di essere visitatore qual è il fattore nuovo che vuoi farmi introdurre marage l'atteggiamento di pura testimonianza osservare gli eventi senza prenderci parte visitatore che beneficio ne trarrò marage la debolezza della mente è dovuta a scarsa intelligenza e comprensione che a loro volta sono il risultato della mancanza di consapevolezza quando ti impegni tenacemente per essere consapevole tieni unita la mente e la rafforzi visitatore potrei essere pienamente consapevole di ciò che accade e allo stesso tempo incapace di influenzarlo marage ti sbagli ciò che accade è una proiezione della tua mente una mente debole non riesce a controllare le sue proiezioni quindi sii consapevole della mente e delle sue proiezioni non puoi controllare qualcosa che non conosci d'altra parte è la conoscenza che dà questo potere di controllo in pratica è molto semplice per controllare te stesso conosci te stesso visitatore forse riuscirò a controllarmi ma sarò in grado di affrontare il caos del mondo marage non c'è caos al mondo tranne quello creato dalla tua mente si può dire che sia tu a crearlo nel senso che si impernia sulla tua falsa idea di essere diverso e separato dalle altre cose in realtà non sei un oggetto e non sei separato sei l'infinita potenzialità l'ineusauribile possibilità poiché tu sei tutto può essere l'universo è soltanto una manifestazione parziale della tua illimitata capacità di diventare visitatore mi rendo conto di essere motivato unicamente dal desiderio del piacere e dalla paura del dolore per quanto possa essere nobile il mio desiderio e giustificata la mia paura piacere e dolore sono i due poli entro i quali oscilla la mia vita marage risali all'origine di piacere e dolore desiderio e paura osserva indaga cerca di capire visitatore il desiderio e la paura sono sentimenti causati da fattori fisici o mentali sono evidenti facili da osservare ma perché ci sono perché desidero il piacere e temo il dolore marage piacere e dolore sono stati mentali finché pensi di essere la mente o meglio il corpo mente sei costretto a fare domande simili visitatore e quando avrò realizzato di non essere il corpo e la mente sarò libero dal desiderio e dalla paura marage finché ci sarà un corpo e una mente che lo protegge attrazioni e repulsioni saranno all'opera rimarranno lì fuori nel campo degli avvenimenti ma non ti riguarderanno il centro della tua attenzione sarà altrove non verrai distratto visitatore però rimangono lì me ne libererò mai del tutto marage sei già completamente libero anche adesso ciò che chiami destino karma è soltanto il risultato della tua volontà di vivere quanto sia forte questa volontà puoi giudicarlo dall'universale orrore per la morte visitatore molto spesso si muore volentieri marage solo quando l'alternativa è peggiore della morte ma questa prontezza a morire sgorga dalla stessa sorgente della volontà di vivere una sorgente più profonda della vita stessa essere vivi non è l'ultimo stadio al di là c'è qualcosa di molto più esaltante che non è né essere né il non essere né il vivere né il morire uno stato di pura consapevolezza oltre i limiti dello spazio e del tempo una volta abbandonata l'illusione di essere il corpo-mente la morte perde il suo aspetto orripilante e diventa parte della vita l'alternativa e del tempo l'alternativa e del tempo l'alternativa Grazie a tutti